è la seconda volta nel giro di cinque mesi che l'ufficio postale di san giovanni marignano nel riminese precisamente in via gobetti viene preso di mira dai rapinatori allora la direttrice della struttura era stata aggredita e sequestrata nel momento dell'apertura della sede questa mattina invece tre malviventi a volto coperto hanno fatto irruzione nella sede delle poste verso le 9 e un quarto uno dei rapinatori con una rapidità degna di chi fa questo mestiere da tempo ha rotto con un piede di porco le doppie porte del bussolotto per la consegna pacchi permettendo così ai complici di accedere alle casse nel giro di qualche minuto i cassetti sono stati svuotati dai contanti il trio infine si è poi dileguato con il bottino la quantificazione esatta di quanto i rapinatori sono riusciti a portarsi via è in corso di quantificazione da parte dei carabinieri sono inoltre in corso le indagini per riuscire ad individuare i malviventi